gs record presenta ma cosa ed eccolo qua questo bambino matteo tamo ma perché e poi sembra geniaca rogna sembra che cos'è una bambina e poi c'è ma poi mi dovete spiegare perché è ambientata a milano e canto napoletano che sorriso bellissimo non credevo il primo impatto ma ti hai fatto scacco matto ma che bella lì come cammina ecco per sorriso pesta che senso eh c'è il fazzaletta ma perché ma cosa fa lo stalker cosa sta facendo sto inseguendo la bambina per chi non vuole per chi non sta guardando il video questo cuore va di fredda mondo tutto fuori orario come fosse un imbranato e da per tutto il tuo profumo non respiro come l'aria e muoviaggio respirare eh si tamo tamo e mi fai girare la testa la bambina la guarda come se fosse uno stronzo però vabbè ma vabbè questo stronzo vedi quanto è scemo iiihihi il ritornello è bello bisogna metterlo ancora ancora ma inseguo la bambina per regarargli la collana non non voglio pigliatella pigliatella no no non voglio ma è schifo e lui contento cammino con un pirla non è storia a Lorenzo che sta a penna rosa, e beh è giusto vediamo ma ha dato un was incredibile e poi rimane un po' caffè, vabbè ma cos'è addirittura ci sono i numeri di telefono e c'è anche il tizio come si chiama, Matteo Milazzo si chiama un grande, un mito questo è un mito, bisogna ammetterlo che è simpatica questa canzone, bisogna ammetterlo no, è solo che Martina al dia di tutto, no? lei cerca di prendere sempre, di sfottere un po' tutti ma questa sera all'Università Show abbiamo scoperto un nuovo Gigi D'Alessio no, no, vabbè non è una cosa poco vabbè, nuovo Gigi D'Alessio un po' esagerato, però no, no, assolutamente, guardi perché nuovo Gigi D'Alessio? scusami perché il tono, il modo, le movenze cioè vabbè, Gigi D'Alessio non proprio Gigi D'Alessio però a questo ragazzo gli dia 30 anni e ne risentirà parlare ah, vabbè se lo dice a lei ma che io sono un scopritore di nuovi talenti certo cioè chi ha scoperto lei, perdonami e qui c'è del talento e chi ha scoperto lei, perdonami adesso per questione di privacy non posso dirvelo ah, va bene guardi che sono tanti ah, va bene, va bene ah, sì lei sa che a Natale uscirà il primo disco della Giovanna no, no, no no, ma per favore è un disco molto importante di canti sacri e dissacranti che cosa sarebbe? come si chiamerà questo titolo? eh? come si chiamerà? si chiamerà? io ci ho già pronto la censura la pompa magna è una cosa un progetto interessantissimo ma ne parleremo in un'altra occasione ma che sia la pompa vabbè io vabbè